Buongiorno, sabato 22 e domenica 23 marzo, sicero in Italia, la 22esima edizione delle giornate Fai di primavera. A Milano verrà aperta la casa del mutilato, le guide oltre ai volontari del Fai saranno anche Mario, Andrea e Salvatore, tre cittadini utenti del centro psicosociale di zona 4 del Fai dei Fratelli di Milano, del Dipartimento di Salute mentale diretto dal professor Cario Mencacci. Oltre a Salvatore, Mario e Andrea ci saranno anche Imma Dabate, Ines Marroccoli, infermiere tutti e due, due tillucinanti universitari e il sottoscritto Carlo Scodino, corresponsabile delle attività rabilitative del Dipartimento di Salute Mentale. Buona visita! Questo qua è invece il palazzo. Il palazzo come vedete è stato costruito a O'Connor rispettando un po' gli stilemi del neoclassicismo. Praticamente il primo e il secondo piano sono ricoperti da travertino, mentre il secondo e il terzo piano sono ricoperti da mattone rosso. c'è per cui un problema di crisi economica umanitaria per questi padronchi assistiti in un paese che esce dalla guerra mondiale. Tu oggi però non le parlerai tutte, ne scelgo tre. No, no, ne scelgo tre. Ti conoscerò prima? Una per ogni anno per l'esercito. Chesottesei per la marina, solo d'acquisto per l'esercito e Francesco Baracca per l'aviazione dell'anatica. Oltre che temibile ma anche reale, Baracca sosteneva e all'apparecchio più o meno non all'uomo. Infatti una volta, atterrò e sedò a stelle di Germano a uno degli sconvissuti dell'aereo di Nico. La figura molto importante è quella della sorella Maria Vittoria Gene. Una fortuna di grande tra l'Argentina e il Cile, che ha comprato una imprese aeronautiche in Uruguay. Non potevano mancare le doro, la fonte rossa, la fonte rossa. Comprende 501 pergamene scritti a mano da Arbidi Amanuensi che riportano le motivazioni della medaglia d'oro concessa individualmente e a bandiere delle parti, a bandiere di guerra delle parti. Voi sapete Milano ha fatto la memoria delle cinque giornate. Uno degli avrapposti cui l'Austria ci tenevano per difendersi era Golto. Però era difficile da conquistare perché c'era il ponte, il suo mincio minato. Savero Gersini però riuscì, nonostante il ponte minato, all'attraversare il mincio e cattuò 50 ferretti olesi e un cantone. E intanto il colore è sulla riva orientale del mincio. Grazie perché le date non me le ricordo mai. Meno male che qualcuno le sa. Paolo Lucci di Carbone, che praticamente è stato ferito durante la prima vera mondiale e cominciò a… Grazie. 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 Grazie.